Si lavora a tappe forzate per l'avvio della raccolta differenziata a Vittoria. Il bando è pronto, è stato approvato dalla Giunta ed il 28 agosto approderà in commissione consigliare. Poi il Consiglio dovrà approvare il piano finanziario. Ci vorranno alcuni mesi prima che si riesca a programmare la nuova gestione del ciclo dei rifiuti che potrebbe partire in primavera. I tempi non saranno brevi ma saranno per noi rapidissimi. Non stiamo perdendo tempo, abbiamo aggiornato i progetti nel mese di luglio-agosto. Il progetto è già per l'approvazione del piano finanziario al Consiglio Comunale. Già la commissione affari generale è convocata per il 28 agosto. Spero che i gruppi consigliari, la conferenza dei capogruppi calendarizzi al massimo ai primi di settembre e metta all'ordine del giorno il piano finanziario della raccolta differenziata. Altra novità, la creazione di un osservatorio permanente che vedrà la presenza di tutti i gruppi politici e delle associazioni cittadine. Stiamo mettendo su un osservatorio cittadino del ciclo integrato dei rifiuti dove tutte le associazioni e tutta la città dovrà essere coinvolta a gestire questo passaggio epocale nella nostra città. Si potrà partire in primavera? Io spero di sì perché se la mia roadmap verrà rispettata io penso che noi avendo prima della fine dell'anno già la ditta già dai primi di gennaio possiamo iniziare tutta la fase della pubblicità 3-4 mesi di rodaggio e spero che in primavera si possa partire sul serio in maniera completa in tutta la città.